...afro regionale, la C1 è già la terza giornata. E noi chiudiamo con un servizio che riguarda la crono scalata a Tempera, vediamo. Siamo qui a Tempera in una frazione dell'Aquila per questo raduno di automobilismo WISP. Abbiamo più vicino a noi Alberto Fasoli, responsabile della sicurezza di questa Care Men's. Alberto, allora, quale difficoltà organizzare una manifestazione del genere? Allora, organizzare una manifestazione simile comporta innanzitutto rilevare un percorso idoneo, poi le varie autorizzazioni, mettere in sicurezza tutto il percorso, in quanto le gare di automobilismo richiedono delle prescrizioni per quanto riguarda la sicurezza particolari. Poi, nulla, riunire tutte le macchine, ringraziare tutti i piloti, allestire il parco commissario, il parco cronometri. È difficile. Noi ci siamo riusciti tramite una normativa ben specifica, facendo delle prove ludico-amatoriali, non proprio competitive come quelle dell'AXAI nazionale. Con i tempi che corrono, purtroppo, dobbiamo, per mettere in moto le macchine, organizzare queste manifestazioni. De Santis Luca, organizzatore di questa manifestazione WIRP di automobilismo, è una crono scalata, è uno slalom, cos'è? Slalom di regolarità, cioè non bisogna oltrepassare gli 80 km orari, pertanto sono state emesse delle postazioni con i berilli, in cui le macchine rallentano e riducono la velocità a zero. È una manifestazione a livello amatoriale per divertirsi senza creare tanto, non devono menge nessun campionato, è solamente a livello sportivo per divertirsi. In più, ci sta la manifestazione per i bambini, che ogni pilota in macchina fa salire un bambino e fa trovare il brivedo della macchina, però ha una velocità di 15 km orari. Maggiormente questa manifestazione ha un grandissimo successo, anche perché io prima l'organizzavo per l'AXAI, ne ho organizzate su questo percorso quattro, quattro le ho organizzate a roio, questa è la seconda che faccio con la UISP, mi si trovo benissimo, sono bravi organizzatori, tutto perfetto, oggi è solamente solo da divertirsi, se il tempo regge ci divertiamo tutti, se no un po' bagnati, ma sempre divertiti. E dunque molto bella questa iniziativa del UISP, la crono scalata a Tempera, era anche la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro buon proseguimento di serata, arrivederci. Grazie a tutti.